sono sconvolta sono sconvolta i pesci che scappano ragazze sono freschissimi e scappano proprio per questo motivo allora noi qua a palermo diciamo quando sono così freschi c'è un lippo sono diffusi mamma mia ma come devo fare qualcuno mi aiuti qualcuno mi aiuti non lo so ragazze non so che cosa pensare io una volta parlavo di una patologia quella però era delle cozze perché comprava ogni giorno ogni giorno ogni giorno le cozze ora guardate tutto il muco questo significa che i pesci sono freschissimi addirittura ce n'era poco fa qualcuno che boccheggiava che difatti io non ho voluto vedere e quindi non lo so non so che cosa pensare cos'è la pescite la malattia del pesce pescite pescite la mania ma non lo so per chi vuole venire domani a mangiare qua ma ma oltre un po di lasagne di pasta al forno forse c'è pure un pochino di pesce ragazze vi faccio vedere quando si dice mio marito nel suo giardino allora tutto questo pesce la finestra aperta da cui si vede il mare noi lo vediamo meglio perché c'è molta foschia il pesce sulla griglia che cucina e io invece sto facendo il ragù quindi mio marito per ora è al settimo cielo pesce mare spaghetti col sugo del pesce spaghetti col sugo del pesce spaghetto spaghetto